Buongiorno, bentrovati appuntamento di martedì 14.00 Il 12 febbraio con mattino 6, oggi si ricorda San Valentino Martire, santo della Chiesa Cattolica, San Valentino anche la festa degli innamorati. Noi apriamo la nostra consueta rassegna stampa come sempre con le prime pagine dei giornali abruzzesi. Oggi in edicola partiamo dalle quattro edizioni del centro e iniziamo da Pescara per vedere quali sono i titoli trattati nel giornale di oggi. Oggi multe stangata da 4 milioni, vigili urbani, i pescaresi non rispettano le zone a traffico limitato. Ieri poi vedremo il servizio, più avanti c'è stato il bilancio del 2016 da parte del comandante della Polizia Municipale del capoluogo Adriatico. E poi si torna a parlare di maltempo, vedete la foto a tutta pagina, la richiesta dei sindaci abruzzesi al governo. Vogliamo mezzo miliardo. E poi armi e ronde, l'Abruzzo cerca sicurezza, difesa fai da te. La politica, PD a congresso subito, resta l'ipotesi scissione. E poi l'Europa non ci promuove, poca crescita in Italia e anche nella nostra regione. E poi le altre notizie che riguardano Pescara e l'Interland pescarese. Il giudice fa riassumere tre precari di attiva, questa la sentenza. E poi Montesilvano, madre malata e figlia sgomberate dal comune. E poi Penne, omicidio Gianmarino. L'imputato dice, io non centro. Infine, in basso il titolo importante che riguarda lo sport, il calcio, il Pescara. Perché nella tarda serata di ieri, ne abbiamo parlato anche nel corso della trasmissione replay condotta da Enrico Rocchi, è arrivata la notizia che era già nell'aria dal pomeriggio, nessun ribaltone tecnico in Casa Bianca Azzurra, il Pescara va avanti con Massimo Oddo. E siamo all'edizione del centro di Chieti, madre e figlia in auto nel lavoraggine Chieti. Frana, paura in piazza Garibaldi, soccorse da due finanzieri. E poi vediamo le altre notizie che riguardano in questo caso Chieti e provincia. San Salvo, bullo sospeso da scuola, dovrà aiutare i disabili. Poi ancora San Salvo, mascherati da Carnevale, rapinano la farmacia. E poi a Tessa, Sevel, niente punizioni per la PP negata. In basso, la politica ortona, Dottavio va via e sfida il Partito Democratico. Si è dimesso il sindaco della cittadina ortonese. E poi vediamo altri titoli. Uno che riguarda la provincia di Pescara, che però riguarda la tragedia in particolare che è accaduta a Farindola di Rigopiano lo scorso 18 gennaio. Ne abbiamo parlato ieri anche nel corso del TG6 perché il Comune ha querelato il giornale satirico francese Charlie Hebdo. E intanto va avanti la petizione anti-fiction, sulla fiction che dovrebbe raccontare questa tragedia. Siamo all'edizione del centro di Teramo. Ponzano-Frana, 72 sgomberati. La frazione di Civitella diventa un deserto. Interrotta la strada 81. E poi Val Vibrata, sale scommesse abusive, denunciati 8 gestori. Giulianova ospedale a salvare il Consiglio Comunale, vota sì. E poi Roseto, istruttore di nuoto, muore in casa a 43 anni. E poi lo sport, il calcio in questo caso in chiave bianco-rossa, in chiave Teramana. Ieri sconfitta del Teramo nel posticipo di Fano per 2-0. Enesimo ribaltone via Zauli, il Teramo a Ugolotti. Poi vedremo il servizio su questa serata molto convulsa in casa Teramana. Siamo all'edizione del centro dell'Aquila. Così crollò la casa dello studente. Depositate le motivazioni della cassazione per le quattro condanne. Poi ancora l'Aquila, rivolta antistrisce blu. Non paghiamo la sosta. Capistrello sulla morte di Angelo. Si indaga per omicidio. E poi a Sulmona, aggredito per il clacson. Altro pestaggio in centro. In basso si parla di turismo bianco. Gran Sasso in 2000 sulle piste per approfittare proprio delle recenti nevicate che comunque quantomeno in chiave turistica, almeno nella zona del Gran Sasso e dunque della montagna dalla parte Teramana ed Aquilana hanno portato neve e anche diversi turisti. E siamo alla prima pagina del messaggero dell'edizione Abruzzo. Del messaggero oggi ne dico. Lavoraggine, terrore a Chieti. Una mamma e il figlio undicenne rischiano di precipitare nel vuoto in piazza Garibaldi. E poi droga albanese. In Abruzzo il mega deposito. Questa è la scoperta del ross dei carabinieri. E poi lo sport, vedete, controordine Pescara. Oddo resta nella foto. Presidente Sebastiani ed il tecnico biancazzurro. E poi in alto si parla delle dimissioni del sindaco di Ortona. degli automobilisti tartassati a Pescara, multe per 4.071.906 verbali elevati nell'ultimo anno. E poi sisma, pressing sul Ministero per salvare l'anno scolastico, soprattutto nelle zone colpite dal terremoto e dal maltempo. E siamo alla prima pagina del quotidiano. La città, sindaci a Roma entro febbraio, riuniti in assemblea in provincia. Parliamo di sindaci della provincia di Teramo, in questo caso, che elaborano le proposte per modificare il decreto terremoto. In basso vedete il richiamo dedicato al calcio. Avanti un altro. Zauli sconfitto e desonerato. La panchina del diavolo a Ugolotti. Abbiamo visto dunque le prime pagine dei giornali abruzzesi oggi in edicola. E dunque possiamo andare a vedere in questo caso le prime pagine dei quotidiani nazionali, che invece troverete oggi in edicola, per dare uno sguardo anche ai titoli di respiro nazionale ed internazionale, cronaca e politica. Parliamo dal Corriere della Sera. Congresso PD, rischio scissione, passa la linea della maggioranza. Renzi, finito un ciclo, ma niente separazioni, dice l'ex premier. E poi vediamo Repubblica. Repubblica, Renzi, subito il congresso del PD, la minoranza, scissione più vicina. Il messaggero, PD a congresso, voto più lontano, passa la linea Renzi. Sabato assemblea, dimissioni da segretario e via all'iter delle primarie. Dunque i titoli principali riguardano tutti il congresso nazionale del Partito Democratico. Vediamo qualche altro titolo dalla prima pagina del messaggero. Di Maio rassicurò la Raggi, marra servitore dello Stato. Spunta un sms al sindaco per la riconferma del fedelissimo. E poi questa notizia a fondo pagina. Ascici in casa si uccide a 16 anni. Proseguiamo. Il fatto quotidiano. Pille, l'Italia ultima in Europa, ma Renzi pensa alla poltrona. E poi il giornale. Odio e ricatti, il PD è morto, faida democratica. Renzi ottiene il congresso subito, ma governo e fronda resistono. E poi, vedete, nella parte centrale della pagina, si parla ancora della vicenda Campidoglio, della vicenda di Roma. Se i grillini si fermano solo davanti ai tifosi del dio calcio, giravolta sullo stadio della Roma. Libero, Renzi va e minaccia di tornare. Il segretario annuncia le dimissioni. Ed il congresso. Siamo la stampa di Torino. PD vince Renzi, ma scissione più vicina. Il tempo di Roma. Anni di occupazioni, bollette milionarie. Questa è la clamorosa denuncia della società che gestisce quattro immobili e che, oltre a non avere più i palazzi, è costretta a spese super. E poi, in chiave calcistica, si parla del posticipo di campionato ieri sera in Serie A. Lazio Sprecona domina l'Olimpico contro il Milan, ma nel finale incassa il gol. Beffa del pari. Lazio-Milan 1-1. Questo è il risultato del posticipo. E poi il quotidiano La Verità, manicomio democratico. Renzi si diverte a spese nostre, scrive La Verità. Il manifesto, smetto quando voglio. Questo è il titolo sul congresso del PD del manifesto. E poi un altro titolo che troviamo in prima pagina, Immigrati nella rete di Trump. E siamo al quotidiano Avvenire. Via da Trump a nord, migranti verso il Canada per evitare le espulsioni. Il Presidente prepara il nuovo blocco. Agli ingressi e poi anche su Avvenire, il quotidiano della conferenza episcopale italiana, c'è un titolo che riguarda il PD. Il PD va a congresso. Dure manovre sulla data. Siamo al mattino di Napoli. Congresso subito. La spunta Renzi. E poi in alto, vedete, si parla di sport in chiave partenopea. In questo caso la carica di Diego. Battiamo il Real. Napoli che si prepara alla sfida di Champion a Madrid. Con il Real Madrid. E sulle tribune ci sarà anche Diego Armando Maradona. Secolo XIX, il quotidiano di Genova. Renzi. Congresso e rottura. La direzione del PD dice sì alla conta, ma la scissione è dietro l'angolo. Come sul messaggero, poi vedete, troviamo questo titolo drammatico che riguarda questo fatto accaduto a Lavagna, proprio in Liguria. Ascic in casa. Si uccide. Ha 15 anni. La Gazzetta del Mezzogiorno. Congresso sì, scissione forse. Si parla del congresso del Partito Democratico. E poi un titolo in chiave locale, in chiave pugliese, scuola in Puglia, sempre meno studenti e cattedre. Ma questa, diciamo, è una cosa che accomuna ormai un po' tutte le regioni d'Italia. Siamo all'unità, c'è vita nel PD. E' anche interessante. Si parla ovviamente del congresso del Partito Democratico. Mentre sulle sole 24 ore si affrontano tematiche, soprattutto di ordine economico-finanziario, l'Europa riparte, l'Italia arranca, pil fermo a più 0,9 nel 2017. Pesano per il nostro Paese, scrive il sole 24 ore, debito e politica, bene gli impegni di Padoan. E poi Wall Street ancora record. Dunque numeri positivi per la borsa americana. Il sole 24 ore è l'ultimo quotidiano nazionale che leggiamo insieme. e poi torneremo a vedere i quotidiani nazionali, ma quelli sportivi, nella seconda parte, quando parleremo di sport, in particolare del Pescara e del Teramo, perché quella di ieri è stata una giornata importante, proprio a livello di panchina, in casa Biancazzurra e Teramana. Lo ricordiamo, perché sono notizie della serata di ieri. Nel Pescara resta alla guida dei Biancazzurri Massimo Oddo, nel Teramo ennesimo ribaltone, via Zauli, dopo la sconfitta di Fano. arriva Ugolotti. Siamo di nuovo al centro, per vedere le pagine che riguardano la cronaca regionale e provinciale. Terremoto e maltempo è deciso da Teramo. Marcia su Roma. Provincia e sindaci compatti chiedono più aiuti al governo. E poi in basso, turismo, misure su credito e promozione. Il settore in ginocchio. Per ripartire, occorrono subito interventi. E dunque si parla anche di questa probabile marcia su Roma, che potrebbe esserci da parte dei sindaci del Teramano. E di questo ha parlato ieri in conferenza stampa l'onorevole Fabrizio Di Stefano a Pescara. Ha parlato di questo decreto terremoto, criticando il decreto del governo, auspicando la zona franca per Teramo e per Chieti, e parlando proprio di una marcia su Roma dei sindaci abruzzesi, per chiedere fondi e soldi al governo. Allora possiamo andare a vedere il servizio con le dichiarazioni dell'onorevole di Forza Italia, Fabrizio Di Stefano. Onorevole Di Stefano, si parla del decreto terremoto che voi definite vuoto. E poi oggi fate delle proposte proprio in tema, proposte che dovrebbero andare a vantaggio del territorio e delle popolazioni abruzzesi colpite dal terremoto e dal maltempo. Le passerelle inutili del Presidente Gentiloni non sono servite a nulla, le dichiarazioni vuote del Presidente D'Alfonso men che meno, e allora arriviamo noi con delle proposte operative. Uno, che lo stato di emergenza si caratterizzi, così come avvenne per la Regione Piemonte, con la nomina di un commissario nella persona del Presidente stesso della Regione, con subcommissari i sindaci dei comuni interessati, e con uno stanziamento di almeno 120 milioni di euro, per tutto ciò che riguarda i danni alle strutture, alla viabilità, alle imprese, diretti e indiretti, quindi il danneggiamento del commercio, delle attività produttive e quant'altro. Due, l'istituzione della zona franca, zona franca che può essere sia urbana che più estesa, zona franca urbana sicuramente per la città di Teramo e per la città di Chieti, ma anche più estesa secondo le disponibilità e le volontà del Governo. Infine, un intervento speciale per la città di Teramo, in particolar modo per il diritto allo studio, per la realizzazione di una nuova casa dello studente, perché a Teramo si sta avendo anche lo spopolamento della popolazione studentesca dovuta alla contestuale drammaticità degli eventi calamitosi e degli eventi sisbici. Sono su, per quanto riguarda lo stanziamento dei 30 milioni iniziali per l'emergenza, io ho trovato risorse per innalzarlo di altri 100 milioni di euro, noi esigiamo che si faccia per l'Abruzzo quello che si fece nel 2015 per il Piemonte. E noi restiamo in argomento dalla pagina sempre del Quotidiano Il Centro, si parla di agricoltura, gli allevatori, fondi subito, 10 mila gli animali morti. Ieri in Abruzzo c'è stata la visita del Presidente nazionale di Coldiretti, Roberto Moncalvo, che è stato a Basciano e poi appenne, dice il Presidente nazionale di Coldiretti, semplificare e velocizzare le procedure per i rimborsi, danni per 52 milioni. Allora possiamo andare a vedere nel prossimo servizio ed ascoltare le dichiarazioni del Presidente nazionale, Roberto Moncalvo, Presidente nazionale di Coldiretti. Il susseguirsi delle emergenze che ha vissuto questo territorio a partire dall'inizio del 2017 e soprattutto rischiano di far dimenticare la situazione drammatica che sta vivendo la campagna abruzzese perché il combinato disposto di maltempo, sisma e mancanza di corrente elettrica per molti giorni ha generato una situazione drammatica. Oltre 50 milioni di euro il danno secondo le prime stime che abbiamo potuto fare ma soprattutto almeno 10 mila animali morti. Allora occorre agire molto rapidamente perché si tratta di salvare un tessuto economico insostituibile che lega l'agricoltura, la produzione di cibo e il turismo e che genera migliaia di posti di lavoro. Occorre veramente tenere conto che l'Italia è fatta per oltre il 50% di aree svantaggiate di colline e di montagne quindi non si può guardare solo all'emergenza ma bisogna costruire un vero e proprio piano per la tutela dei territori rispetto al discesso idrogeologico e tenere conto che garantire la presenza agricola su questi territori è l'unico modo per garantire loro un futuro e per garantire la tenuta di questi territori anche rispetto ai drammi generati dal cambiamento climatico. Le prime misure che abbiamo ottenuto sono un primo passo occorre agire ancora in modo molto più rapido sia in termini economici ma sia soprattutto in termini di semplificazione drastica di tutti gli adempimenti necessari per consentire a queste aziende di ripartire e di potersi costruire un futuro che non è solo il futuro delle aziende agricole ma il futuro di un territorio che è profondamente legato alla vita dell'agricoltura del territorio. Serve guardare alla continuità dell'attività di queste aziende agricole ma poi serve costruire un piano per un investimento futuro duraturo su questi territori che sono fondamentali per il futuro del paese. Oggi sicuramente gli imprenditori non saranno fermi avranno voglia hanno continuato già in questi giorni anche perché sono così importanti per un territorio come il nostro quindi aiutarci a non creare lo spopolamento e quindi di conseguenza la burocrazia deve darci una mano ma non appesantirci. Ringrazio il Presidente Nazionale di Coldiretti Moncalvo per la sua visita in provincia di Teramo per rendersi conto da vicino della drammaticità dell'agricoltura in particolar modo della zootecnia abruzzese. Io voglio ringraziare Coldiretti che in queste settimane difficile è stata vicina alle istituzioni ma soprattutto vicina agli agricoltori e agli allevatori abbiamo sviluppato una serie di solidarietà a cominciare dal mais dal fieno dalle granaglie che sono arrivate da ogni parte d'Italia e anche dalle altre nazioni europee per contribuire ad alleviare i tanti problemi dei nostri allevatori. Inoltre abbiamo sviluppato il progetto Adotta una stalla trasferendo tanti bovini dalle montagne verso il mare verso strutture stalle disponibili. Adesso abbiamo dei compiti ancora più gravosi che è quello di iniziare la ricostruzione e sono certo che con l'aiuto della Coldiretti nazionale noi possiamo sviluppare processi positivi per quanto riguarda la ricostruzione e soprattutto noi dobbiamo fare di tutto per far rimanere le nostre aziende e i nostri imprenditori insediati in queste aree così difficili della nostra montagna. E questo dunque il servizio che ha parlato e ci ha raccontato la giornata di ieri nella nostra regione del presidente di Coldiretti nazionale Roberto Moncalvo che ha affrontato proprio le tematiche post-maltempo che hanno messo in ginocchio le aziende agricole e soprattutto del Terramano. Allora torniamo a vedere le altre pagine del centro pagina 4 sicurezza fai da terra stiamo in Abruzzo ovviamente pistole telecamere allarmi così l'Abruzzo si difende cittadini e imprese si mobilitano ecco la risposta contro la criminalità e poi presi a pugni il rapinatore lo rifarei bisogna reagire e vorrei anche un'arma il racconto di una persona rimasta vittima di una rapina e c'è chi organizza le ronde il caso per esempio di Città Sant'Angelo andiamo avanti svolta democratica PD a congresso subito resta l'idea scissione anche nelle pagine centrali del centro si parla di quello che sta accadendo all'interno del Partito Democratico ma noi siamo già alle pagine che riguardano le province partiamo proprio da Pescara verbali a raffica stangata sui pescaresi multe per 3 milioni e 700 mila euro questo è il bilancio 2016 sull'attività della Polizia Municipale 72 mila contravenzioni diminuiscono gli incidenti stradali aumentano le attività per le emergenze più tardi nella seconda parte della nostra rassegna stampa vedremo anche il servizio e poi attiva assuma subito i tre precari licenziati sentenza del giudice del Tribunale di Pescara che riapre il caso degli ex esclusi dall'azienda e poi l'allarme del Presidente Angelo Valori l'ente manifestazioni e al verde pochi soldi anche per le bollette procediamo i genitori in piazza fondi per l'autismo ieri manifestazione dinanzi la sede del Consiglio regionale a Pescara servono altri 550 mila euro per garantire le prestazioni nei centri autorizzati lunedì ci sarà l'incontro con l'assessore alla sanità Silvio Paolucci noi ieri con le nostre telecamere eravamo proprio a seguire questa manifestazione proprio sotto la sede del Consiglio regionale a Pescara abbiamo ascoltato un genitore di un bambino autistico vediamo oggi c'è questa protesta qui sotto il Consiglio regionale a Pescara voi siete genitori di bambini che hanno problemi di autismo chiedete alla regione di non tagliare dei fondi che metterebbero a serio rischio l'assistenza ai vostri figli oltre che chiediamo alla regione di non tagliare i fondi chiediamo alla regione di erogare dei fondi che già sono stati diciamo stanziati il problema grosso è che questi ragazzi hanno bisogno di assistenza 24 ore su 24 perché sono completamente non autosufficienti e se dovesse persistere questa situazione che la regione non eroga i fondi il centro ha già comunicato che le prestazioni verranno tagliate questo significa che cosa che i nostri ragazzi probabilmente saranno costretti a rimanere a casa e a non soffrire di assistenza da parte di operatori specializzati che sono fondamentali per cercare di migliorare la loro situazione di vita e la loro autosufficienza il problema grosso è che in mancanza di questa assistenza che cosa succede noi genitori non sappiamo che cosa succederà quando noi non ci saremo più quindi il problema grosso per questi ragazzi è garantirgli un futuro e un minimo di umanità e di autosufficienza per cercare di far fare a questi ragazzi una vita il più degna possibile e intanto il direttore dell'agenzia sanitaria Mascitelli lo vedete in questo titolo di spalla dice pronti i servizi per i malati andiamo avanti passiamo alla pagina seguente la cronaca in questo caso le auto incendiate sotto casa al presidente del Pescara Daniele Sebastiani perquisizioni a tappeto della Digos a caccia di botti compatibili con il rogo di una settimana fa si assottiglia l'elenco dei sospettati all'esame il fotogramma di un volto e poi oggi in piazza Salotto torna il camper rosa antiviolenza della polizia ancora cronaca muore dopo due mesi anziano investito in bicicletta Paolo Muci 81 anni era ricoverato all'ospedale di Atri era stato travolto a fine novembre con la sua bicicletta in via Tirino da un'auto una Fiat Panda vedete anche nella foto poi ancora cronaca bimba rischia di restare soffocata rigurgito di latte la piccola di 10 giorni salvata dal 118 è ricoverata in ospedale poi l'aggressione di sabato notte a Pescara sulla Golena Sud giovane di 23 anni ferito con una mannaia è fuori pericolo il giovane che era stato operato subito dopo questa aggressione proseguiamo la tragedia di Rigopiano Farindola querela Charlie Hebdo ne avevamo parlato anche ieri nel corso del TG6 è stata presentata proprio la denuncia querela dal comune di Farindola presso la procura della Repubblica di Rieti e questo quanto è accaduto ieri e rientra proprio nella strategia dei sindaci dei paesi colpiti dal terremoto e dal maltempo perché la stessa cosa aveva fatto qualche tempo fa il sindaco di Amatrice Pirozzi e poi festa degli innamorati ne parlavamo prima oggi è San Valentino c'è la storia di Tonio e Francesca il nostro San Valentino aspettando il sole i coniugi Liuzzi tra pochi giorni diventeranno genitori Vita Antonio Liuzzi tra l'altro pescarese ed ex pilota di Formula 1 e poi Ecomostro sul mare rifugio per disperati progetto nato come residence ma abbandonato da anni siamo a Francavilla al mare parla il sindaco Antonio Luciani che dice se sarà trasformato che sarà probabilmente trasformato questo che oggi è come leggiamo anche nel titolo un rifugio per disperati e se ci sarà questa trasformazione il comune di Francavilla incasserà anche un premio e da Francavilla al mare ci spostiamo più a nord a Montesilvano madre malata e figlia sgomberate dal comune dovranno lasciare l'alloggio di loro proprietà inagibile per le infiltrazioni d'acqua e muffa sulle pareti colpa del tetto che il municipio non ha riparato e poi gran concerto del ventennale con la pianista ucraina Litizza si parla della nuova scuola civica musicale di Montesilvano proseguiamo non ho ammazzato io Gianmarino si parla in questo caso invece dell'omicidio di Epenne a processo parla il giovane accusato di questo fatto avvenuto nella cittadina Vestina e poi in alto invece a Popoli si parla dei controlli antidroga tra i pendolari portati a termine dai carabinieri della locale compagnia che hanno sequestrato anche delle quantità di droga e hanno controllato diversi automobilisti in transito proprio nella zona della Val Pescara e poi in basso ci spostiamo e torniamo anzi a Penne Penne al Marconi arrivano i maschi i tecnici del mur in città per la scuola lesionata non si ferma la frana a Collalto e a proposito di frane andiamo alla pagina di Chieti del centro la città sta franando madre e figlia con l'auto nella voragine cede la strada dramma in piazza Garibaldi a Chieti le due donne salvate da finanzieri crepe in via Madonna della Vittoria noi ci fermiamo ora per qualche attimo poi torneremo a parlare degli altri fatti di cronaca dalle nostre province nella seconda parte di Mattino 6 a Trapoco di nuovo in studio seconda parte di Mattino 6 stavamo leggendo fatti di cronaca dalla pagina di Chieti Chieti provincia del centro della frana che ha colpito ieri piazza Garibaldi a Chieti si è sfiorata la tragedia con madre e figlia nell'auto della voragine e poi la notizia invece che riguarda le dimissioni del sindaco di Ortona d'Ottavio schiaffo al partito democratico Ortona dunque senza sindaco più avanti vedremo anche in questo caso il servizio poi la Sevel si limita una ramanzina a Tessa pipì negata all'operaio solo una comunicazione a team leader e capi unità infine a fondo pagina ci spostiamo a San Salvo rapinatori con le maschere di carnevale hanno rapinato la farmacia della cittadina in provincia di Chieti siamo alla pagina dell'Aquila Aquila provincia del centro mistero a Capistrello morte di Angelo indagato un amico all'Aquila inchiesta per omicidio dopo la denuncia dei genitori svolta dopo la scoperta di un furto al Bancomat e poi tragedia alle Marane bimbo morto in ospedale disposta l'autopsia Sulmona servirà a chiarire le cause del decesso avvenuto subito dopo il ricovero e poi a Sulmona altro pestaggio giovane preso a calci e pugni e poi casa dello studente ritorniamo all'Aquila ecco perché crollò la Cassazione dice nessuna verifica fu effettuata sui nuovi carichi di peso dello stabile e siamo alla pagina di Teramo sempre dal centro anche in questo caso torniamo a parlare di Frane Frane senza fine Ponzano si apre in 72 devono lasciare le case a Civitella spaccata la provinciale 8 danni anche ad una linea elettrica la statale 81 sprofonda e interrotta tra Valvomano e Penna Sant'Andrea e poi l'omicidio di Melania Rea Parolisi chiede di vedere la figlia udienza finale alla Tribunale dei minori di Napoli decisione che verrà presa a marzo e poi in Val Vibrata 8 sale scommesse fuori legge denunciati i titolari allora siamo arrivate al termine delle pagine di cronaca del centro andiamo a vedere a questo punto invece l'inserto Abruzzo del messaggero poi vedremo anche le pagine interne del quotidiano la città e poi nell'ultima parte come dicevo in precedenza andremo a parlare di sport in particolare del Pescara e del Teramo Pescara che ha confermato in panchina Massimo Oddo che comunque ha deciso di non lasciare quando sembrava che dopo la sconfitta di Torino potessero esserci dimissioni che in realtà non ci sono invece mai state e così alla fine ieri dopo una lunga giornata di consultazioni e riunioni è arrivata la fumata bianca per far sì che Oddo potesse continuare ad essere l'allenatore del Pescara poi parleremo del Teramo con l'esonero invece in questo caso di Zauli e l'arrivo di Ugolotti seconda pagina di cronaca regionale dal messaggero droga dall'Albania l'Abruzzo deposito dei nuovi traffici un duro colpo è stato messo a segno dalla DDA dell'Aquila dopo le indagini dei carabinieri del ROS 67 persone sotto inchiesta e poi a Basciano la manifestazione della Col di Retti nell'azienda Simbolo che conta 3.000 suini morti abbiamo visto il servizio con l'intervista al presidente nazionale di Col di Retti Roberto Moncalvo e poi in basso i Martinelli non mollano il famoso pecorino di Farindola e salvo questa bella storia che arriva dal piccolo centro devastato dalla tragedia dell'hotel Rigopiano e poi siamo la pagina di Pescara le pagine di Pescara del messaggero Pescara sogna il rettorato tra i nomi e dunque si parla di università andiamo a leggere il sommario Paola Fusero numero uno di architettura e gli economisti Augusta Consorti e Michele Rea pronti a scendere in campo le divisioni di medicina che schiera Stuppia Mastro Pasco e Caputi rende aperta la sfida alla successione dell'attuale rettore di Ilio e poi in basso rinascite il gabbiano ieri e domani come cambia la città di Pescara in questo caso sulla riviera e poi trasformismi tutto esaurito per Brachetti al Cinema Massimo e siamo alla seconda pagina della cronaca di Pescara del messaggero 70.000 multe quasi 4 milioni nelle casse dei vigili questi alcuni dei numeri che sono stati dati ieri nel corso della conferenza stampa che si è tenuta presso il comando di via del circuito a cui hanno partecipato oltre al comandante della polizia municipale di Pescara il colonnello Carlo Maggitti anche il sindaco di Pescara Marco Alessandrini ed il vice sindaco Enzo Del Vecchio andiamo a vedere dunque il servizio sui numeri della polizia municipale di Pescara nel 2016 purtroppo si viene sempre associati ad un'attività di repressione di prendere soldi dalle tasche di cittadini quando invece la polizia municipale non è questo non è un caso che oggi si festeggi San Sebastiano lo festeggiamo oggi la data era il 20 gennaio il patrono dei vigili urbani San Sebastiano è un martire voluto proprio appositamente dal Papa e nominato come custode e protettore dei vigili urbani quindi è paradossale che abbiamo un santo protettore martire e poi invece ci si veda e ci si ricordi non per ciò che facciamo nell'emergenza e nella quotidianità ma per quelle che è una delle nostre tante attività che è quella della polizia stradale noi facciamo edilizia facciamo commercio facciamo ambiente lavoriamo con l'ASL per i trattamenti sanitari obbligatori per i cani per l'ambiente con la procura con la questura lavoriamo con tutti la nostra divisa è tra le più invise erroneamente questo comando ogni anno riceve 40.000 richieste di intervento e questo mi sembra un dato molto chiaro poi ci sono le multe le multe non fanno piacere a nessuno non fanno piacere ai cittadini né fanno piacere a quanti le irrogano ma si tratta di far rispettare il codice della strada quanto è stato incassato con le multe e quanto è stato previsto con la redazione del nostro bilancio questo potrà sembrare una cosa banale ma in realtà è una rivoluzione copernicana perché fino a un certo passato quando bisognava chiudere i bilanci si gonfiavano le previsioni di entrata e questo fatto per anni ha determinato un sacco di problemi oggi c'è una nuova contabilità pubblica che perlomeno noi interpretiamo con rigore ma questo dà frutti ancora cronaca di Pescara dalle pagine del messaggero sarà ascoltato il ferito con la Mainnaia ne parlavamo prima questo 23enne rimasto ferito sabato all'alba di sabato nel centro storico di Pescara e poi morto dopo due mesi l'anziano ciclista investito decesso arrivato quando sembrava che le condizioni dell'anziano potessero migliorare e poi in basso Buccella e Fratini scatti da Abruzzo che conquistano la scena parliamo di una mostra che si tiene mostra fotografica che si tiene a Pescara andiamo avanti Giancaterino disperato io innocente parla davanti alla corte d'assise il presunto killer di Gianmarino accoltellato nella sua abitazione di Penne e poi spacciava droga nell'area vestina giovane arrestato dai carabinieri di Penne e poi petizione anti fiction per la tragedia dell'hotel di Rigopiano mentre il comune di Farindola ne parlavamo prima querela il giornale satirico francese Charlie Hebdo e poi quando al festival di Sanremo c'erano i nostri fiori che ricordi il racconto della mamma dell'ex sindaco Cantagallo tanti abruzzesi che si sono trasferiti per lavoro in Liguria e poi in basso le stelle della vela al museo Michetti il presidente Guidotti premia 50 atleti proseguiamo pagina dell'Aquila del messaggero validità dell'anno scolastico prosegue il pressing sul ministero e poi le polemiche parla Silveri in capacità politica e gestionale madornali errori da parte del centro-sinistra si parla di politica in questo caso ci si avvicina alle amministrative ma intanto parlando ancora dell'Aquila gli Erasmus promuovono il capoluogo di regione in basso solisti aquilani full immersion nella musica da camera e poi il caso verdeacqua attacco del comitato 99 dal sindaco e dalla giunta una palese indifferenza dicono sulla gestione del complesso e siamo ancora alla pagina dell'Aquila del messaggero sosta a pagamento le strisce blu ci sono ma manca la delibera e poi casa dello studente sono arrivate le motivazioni delle condanne e poi il dibattito Benedetti preservare il decoro urbano invece Confcommercio parla di un piano per i prossimi mesi con Di Stefano in un summit con Pietro Di Stefano era presente anche Celso Cioni proprio uno dei leader della Confcommercio sia regionale che Aquilana in basso quei carnevali diventati più corti mutilati dal terremoto del 1703 storie aquilane in questo caso siamo alla pagina di Avezzano Sulmona la nuova fiera dei Marsi si presenta varata dal Gal assieme alle organizzazioni dei commercianti è partita una delle più grosse kermes economiche dell'anno e poi ancora Avezzano rubano nella sala slot e nel frattempo si ubriacano mentre a Sulmona ingegneri e tecnici al lavoro per la città sicura sempre in Valle Peligna sempre nella città ovidiana neonato morto è stata disposta l'autopsia e poi invece a Castel di Sangro scossa di terremoto avvertita panico tra gli studenti torniamo ad Avezzano neocorurgia mancano due medici ancora un rinvio mentre il comune quanto riguarda la cronaca comunale tar annulla la delibera di acquisizione siamo alla pagina di Chieti del messaggero mamma e figlio nel lavoraggine con l'auto salvati dai finanzieri e poi teatinità nasce un comitato per un sussulto di dignità e poi i precedenti invece tornando alla frana vedete nella foto la macchina finita in questa voragine frana di Piazza Garibaldi ci sono dei precedenti con una lunga scia di smottamenti e frane e poi in Piazza Vico la campagna antiviolenza della Polizia di Stato così come in altri capoluoghi di provincia della nostra regione e poi ladri maldestri rubano la ruspa e restano impantanati nel fango il sindaco Dottavio si è dimesso e dunque questa è la notizia che riguarda Ortona non ci sono più le condizioni per governare ha detto ormai l'ex primo cittadino possiamo andare a vedere il servizio proprio sulle dimissioni del sindaco di Ortona il sindaco di Ortona Vincenzo Dottavio del Partito Democratico si è dimesso a pochi mesi dalla scadenza naturale del suo mandato ha presentato direttamente le dimissioni con nota in protocollo al presidente del consiglio comunale alla giunta e consiglieri comunali e al prefetto di Chieti è stata una decisione sofferta ha detto Dottavio i cittadini che mi hanno votato cinque anni fa accordandomi una preferenza del 75% meritavano altre risposte sicuramente un'amministrazione più attenta ai loro bisogni non riuscivo più a tenere unita la maggioranza ha aggiunto Dottavio che in realtà non è mai stata coesa le dimissioni sono irrevocabili abbiamo cercato di dare il massimo in un contesto difficile quale è quello oggi dal punto di vista economico dal punto di vista dei bisogni della città stessa di Ortona siamo arrivati a questo punto non riuscivo più davvero a contenere questa maggioranza che non è stata mai coesa tra l'altro ci sono stati sempre dei problemi in giunta in consiglio maggioranze fluttuabili e soprattutto negli ultimi tempi abbiamo assistito anche a una maggior presa di posizione anche così interventi da parte della stessa maggioranza tutto questo mi è dispiaciuto moltissimo e mi ha fatto considerare che era giunto davvero il momento di prendere una decisione finale appunto le dimissioni mi dimetto da sindaco ha aggiunto Dottavio ma non ho stracciato la tessera del PD però al partito rimprovero tante cose soprattutto di non aver cercato la coesione di non aver creduto in me fino in fondo andavo bene cinque anni fa ha concluso ora non più non abbandono la politica ma in questo momento davvero in questo momento così un po' particolare anche della mia vita politica e non solo ritengo che sia giusto un momento di riflessione queste le parole dunque dell'ormai ex sindaco di Ortona siamo a tollo incidente sul lavoro cade mentre pota un albero ferito proprio nella cittadina in provincia di Chieti e poi Lanciano sarà tolleranza zero per le soste selvagge ancora a Lanciano la procura diventa a tutta tinte rosa il CS nomina il magistrato Mirvana Di Serio nuovo procuratore della Repubblica e poi vasto abusi su una disabile assolto un imprenditore siamo a Teramo tutti a Roma ricorso al Tarre con le fasce sull'autostrada i sindaci sul piede di guerra Brucchi dice sindaco di Teramo la verità è che non ci ascolta nessuno frana 72 persone evacuate a Civitella blackout totali e poi preso con la cocaina e monili d'olo rubati c'è stato questo arresto dei carabinieri e poi politica nomina in provincia scoppia la guerra in casa del PD e poi ancora 34 famiglie sfollate la Noe Lucidi la scuola Noe Lucidi di Teramo non riapre Lolli una proposta che merita rispetto molto apprezzato l'intervento del vicepresidente della regione che è intervenuto in consiglio comunale a Giulianova in sostituzione del governatore D'Alfonso la Sise approva il documento sull'ospedale di primo livello recuperato anche il sì di Civiticamente e dei 5 Stelle dunque incontro importante in comune a Giulianova proprio sulla questione ospedale e poi sempre a Giulianova lite tra condomini il comune fa abbattere un muro e sempre nella cittadina giuliese latitante pescarese bloccato in stazione Roseto l'allarme sirinche sbanca sui social in Val Vibrata invece scoperte otto sale scommesse abusive infine Tortoleto nella città riverasca teramane società sportive sfrattate andiamo ancora avanti ma siamo arrivati alle pagine dello sport dunque dobbiamo ancora attendere qualche attimo prima di parlare di sport perché dobbiamo andare a vedere insieme invece le pagine che riguardano il quotidiano la città di Teramo e vedere dunque quali sono le tematiche che sono trattate nel giornale che troverete oggi in edicolo ovviamente si parla anche della questione maltempo soprattutto in provincia di Teramo maltempo che ha colpito in particolare proprio l'Interland teramano e tutto il comprensorio interno avevamo visto già la prima pagina in precedenza andiamo a vedere le pagine interne pagina 3 Ginobili sente aria di scissione in casa del partito democratico dipende tutto da Renzi l'onorevole del PD abruzzese presente alla direzione che è aperto al congresso anticipato e poi il voto su Teramo lo vedo più lontano ed è meglio così possiamo a tal proposito poi vedremo anche più avanti anche nel corso del nostro Tg vedremo anche quali sono diciamo in chiave abruzzese quali potrebbero essere le conseguenze di un congresso anticipato o posticipato e anche quello che potrebbe accadere nella nostra regione e poi in basso Enel proroga le scadenze per le bollette anche per quelle già consegnate proseguiamo decreto speciale protesta a Roma entro la fine del mese i sindaci Teramani si preparano alla mobilitazione e approvano il documento delle richieste al governo ma noi a tal proposito andiamo a vedere proprio un servizio di Tania Bonnici Castelli che fa un po' il punto della situazione Ammontano a 450 milioni i danni per maltempo e terremoto che hanno prostrato economicamente psicologicamente la provincia di Teramo la stima è stata redatta in base alle relazioni dei sindaci dei 47 comuni del Teramano e riguardano strade scuole edifici pubblici ed edifici privati una calamità eccezionale che esige risposte eccezionali e saranno queste che i primi cittadini della provincia compatti nella protesta chiederanno allo Stato dal decreto arriverà qualcosa per aiutarvi? non so se arriverà dal decreto la mia proposta è di uno Stato di emergenza specifico per la provincia di Teramo per quanto riguarda i danni da maltempo oltre alle modifiche al decreto per ciò che concerne il terremoto Teramo e altri comuni il decreto che sarà fatto il prossimo se verrà fatto noi chiediamo che venga riconosciuto venga esteso a tutti i comuni almeno qualche beneficio che ci permetta di avere una libertà di bilancio che venga sospeso il patto di stabilità e che ci sia almeno la posticipazione per un biegno dei mutui comunali in maniera tale da liberare delle risorse senza un ulteriore aggravio per lo Stato al di là degli interventi che il governo voglia fare per dare possibilità alla provincia di ripristinare la viabilità provinciale la cosa che più spaventa in questo momento nel terramano sono le colline che franano rovinosamente portandosi dietro strade infrastrutture e mettendo in pericolo anche intere frazioni come Casoli di Atri 1700 abitanti che stanno evacuando su ordinanza del sindaco Gabriele Astolfi la situazione è veramente grave c'è uno smuttamento in atto probabilmente dovuto a falde che hanno deviato il loro tragitto non sappiamo bene mercoledì mattina faremo un esame molto importante con uno strumento per capire se sono falde che hanno deviato la situazione è piuttosto grave a Casoli assolutamente ci sono anche altre situazioni in tutto il comunale cosa chiedete al presidente della regione e al presidente della provincia di Terra ma intanto che venissero a fare un sopralluogo per rendersi conto di persona della situazione così come in tanti altri comuni piena solidarietà per gli altri comuni che sicuramente avranno situazioni similare alle nostre ma ripeto qui c'è in gioco la vita non si tratta soltanto di frane con interruzioni di strade che seppur insomma grave è una situazione che si può affrontare con calma qui parliamo di nuclei abitati di gente che ho dovuto sfollare di persone che hanno la loro casa e quindi il sacrificio di tutta una vita in pericolo perché c'è una frana una collina che rischia di smottare sopra di loro di venire ad Atria e di rendersi conto ma credo che sia un atto dovuto per tutti i comuni della provincia di Teramo non credo di chiedere nulla di particolare Teramo vittima del dissesto idrogeologico lo dice nell'intervista al quotidiano La Città l'avvocato Gennaro Lettieri che parla proprio dello stato disastrosso del capoluogo e della necessità di una cura shock in basso il PD Teramano contesta le deleghe di Direnzo e la riforma di Renzi dunque si parla ancora delle problematiche interne al Partito Democratico e poi controlli sui contributi agli sfollati verifiche del comune nelle case inagibili e sugli stati di famiglia si rischia la denuncia siamo ovviamente a Teramo e Pomante coordinatore regionale di Abruzzo Civico subentra a Cassone questa è la nomina che riguarda proprio il politico Teramano proseguiamo no è lucidi riapertura verso lo slittamento siamo sempre nel capoluogo a Prutino lavori chiusi per giovedì ma per il rientro si attende ancora l'ufficialità probabile la data di lunedì 20 e poi sinistra italiana eletti gli otto delegati per Rimini si parla del congresso che si terrà nella cittadina romagnola e poi in basso l'integralista cattolico di Norfi a Teramo domenica allo sporting con il popolo della famiglia e poi due poltrone per tre aspiranti al consorzio BIM venerdì scade il bando per la doppia designazione del comune di Teramo le correnti reclamano un posto al sole andiamo ancora avanti pagina della provincia 20 famiglie sfrattate dalla frana di Ponzano la frazione di Civitella evacuata dei vigili del fuoco e poi Val Vibrata il PD troentino riapre i termini delle primarie a Corropoli il giudice manda in carcere la coppia dell'estorsione al Falegname poi a Nereto anziana trovata morta in casa decesso per cause naturali a Tortoreto la società di pallavolo continua a giocare nel palazzetto mentre ad Alba Adriatica scommesse all'estero nuovo giro di chiusure delle agenzie locali e poi il consiglio straordinario a Giulianova ne abbiamo parlato anche leggendo gli articoli i titoli del centro del messaggero un altro schiaffone dalla regione il destino della sanità giuliese si decide altrove tanti assenti all'assemblea organizzata dal sindaco Mastro Mauro e poi Roseto Pineto Atri e Silvi partiamo da Roseto socialisti in fermento per le scelte del nuovo centrodestra Agno Pavone non si sbilancia ma chiede maggiore chiarezza e rispetto a Silvi cocaina e gioielli nascosti in casa colombiano in manette e poi cronaca ad Atri muore in ospedale due mesi dopo l'investimento infine Roseto i carabinieri a caccia dei teppisti del Barahonda pagina della cultura per San Valentino regalati Flaiano e dunque si parla del regista pescarese il grande regista pescarese sempre attuale e siamo arrivati allo sport ribaltone Teramo via Zauli e Bolla arriva Ugolotti questo quanto scaturito ieri sera dopo la sconfitta del Teramo a Fano per 2 a 0 andiamo a vedere il servizio nulla da fare ma stavolta la sconfitta non fa male fa malissimo il Teramo cade anche nello scontro diretto del Mancini e probabilmente dice addio alla possibilità di salvarsi direttamente e senza play out le forche caudine degli spareggi ammesso che il Fano si fermi qui sono un incubo reale per i biancorossi battuti al cospetto di una squadra affamata e vogliosa di regalare al proprio pubblico una vittoria che mancava da tantissimo tempo niente a che vedere con l'attuale Teramo svogliato privo di mordente incapace di provare una reazione dopo lo svantaggio firmato Fioretti ma perfettamente in grado di capitolare ulteriormente a tempo scaduto per mano di Germinale che firma il 94esimo rigore della sicurezza e pone fine all'avventura di Lamberto Zagli sulla panchina del diavolo tutto troppo brutto per essere vero coi sostenitori del Teramo che al triplice fischio di Meleleo voltano letteralmente le spalle alla squadra prima del ben servito che la società dà al tecnico che nemmeno al dodicesimo tentativo c'entra un successo inevitabile l'addio all'allenatore subentrato a Nofri e che aveva iniziato la sua avventura a Bissa anche bene con un pareggio al Tardini di Parma ma che ben presto ha smarrito la bussola anche nella fredda serata marchigiana col Teramo che bada solamente a non prenderle e dall'altra parte un Fano cosciente che quella è l'ultima opportunità di agganciare un treno che sembrava ormai perso ripartire dalle cenere di questa debacle non sarà affatto semplice in una spirale di continui esperimenti e shock senza esito col Mancini che ribolle di passione e una scelta Baccolo dall'inizio e Carraro in panchina che ormai non serve a niente provare anche ad analizzare i 20 punti messi insieme in un'eternità di torneo non possono rappresentare una compagine costruita con altri obiettivi e che in questo momento fa tremendamente fatica a racimolare qualche punticino qua e là il futuro di Guido Ungolotti tecnico esperto e l'ultima speranza di provare a salvare il salvabile ponendo come fondamento un progetto che vada oltre la quale Guado un inferno senza fine che rischia seriamente di spalancarsi sotto i piedi di un diavolo mai davvero mai così vicino al ritorno tra i dilettanti c'è un obiettivo da raggiungere non contano chi ci sarà chi non ci sarà conta il teramo quindi il futuro è quello di una squadra che lotterà fino alla fine sicuramente per arrivare a una salvezza che può essere senza play out con play out ma tutti questi ragazzi sono stra sicuro che lotteranno fino alla fine per ottenere la salvezza dovete fare il bene del teramo e tutelarlo il più possibile perché il teramo non è Zauli Zauli probabilmente è una parentesi i giocatori sono una parentesi il teramo rimane e fare questi giochini non porta nessuno oggi siete venuti a Fano ve l'avevo già detto in settimana ultimi in classifica e non avete sentito un tipo di contestazione la squadra ha lottato ha raggiunto una vittoria è ancora sotto al teramo ma si vive tutta altra tutta altra atmosfera questa atmosfera forse permetterà al Fano di salvarsi a teramo io vedo i ragazzi molto delusi sono i primi a essere delusi di questa situazione non si divertono assolutamente e quindi a prescindere dai nomi mi piacerebbe che i ragazzi siano sostenuti e poi criticati dopo non durante al microfono di Jacopo Forcella dunque Lamberto Zauli alla sua ultima intervista da allenatore biancorosso perché poco dopo è arrivato l'esonero questa mattina alle 12 e mezza verrà presentato al Bonoli Sugolotti siamo al Pescara né dimissioni né sonero riflessione finita Oddo resta in sella il tecnico pescarese ci ripensa dopo l'addio ventilato a Torino e poi una buona notizia che arriva dall'infermeria che potrebbe svuotarsi in vista della gara con il Genoa perché dovrebbero rientrare in un sol colpo Campagnaro Bovo Girardino e forse Bayback andiamo ancora avanti per parlare e vedere ancora quello che è accaduto in chiave Teramo Teramo suonera Zauli arriva Ugolotti abbiamo sentito Zauli abbiamo detto di Ugolotti Zauli che lo avete sentito proprio dal microfono di Jacopo Forcella ha detto prendete esempio Dalfano ultimo in classifica ma incoraggiato e non contestato dai tifosi Serie D Noman sono all'Aquila per torrare in Lega Pro parla il giocatore Aquilano e poi il calcio giovanile per arrivare al basket la Proger fa un'offerta a Markincovic vedremo se questa offerta verrà accettata e per chiudere andiamo a vedere le pagine dello sport del messaggero si parte dal Pescara alla fine Oddo resta dopo una giornata surreale si è passati dal quasi certo cambio di panchina alla sicura conferma dell'allenatore e poi le cessioni Ghiomber passa al Terek Grozzini formazione russa in basso primo sorriso per Gersi neo allenatore del Francavilla ma il paterno non molla e poi il Teramo va a picco Zauli via c'è Ugo Lotti ne abbiamo parlato abbondantemente in basso Campitelli dice ho fiducia e lui sa che significa lottare padrone che parla del neo tecnico e poi basket Roseto salvezza centrata ora l'obiettivo playoff Proger c'è Gilbert per sostituire Davis e poi l'Aquila Noman si riprende l'Aquila appunto un gol per sognare Lavezzano in grafforma corre verso i playoff San Nicolò in costante terzo posto più lontano Epifani non fa drammi dopo il pari interno con la Re Canatese e poi Favo per la Vastese una sconfitta ingiusta neotecnico all'esordio con battuta d'arresto non demorde Pineto ancora un pareggio con tante recriminazioni per la formazione di Amaolo in basso il volley la Sieco debutta la grande vede la salvezza più vicina dopo la vittoria ottenuta dai ragazzi di Lanci c'è fiducia atletica Ludovica Montanari oro nel peso ai nazionali allievi buona notizia per l'atletica della nostra regione noi siamo così giunti al termine dell'appuntamento di oggi di martedì 14 febbraio con la nostra consueta rassegna stampa che tornerà domani come sempre alle 7 invece il prossimo appuntamento con l'informazione di TV6 è previsto per le 14 per la prima edizione del nostro telegiornale grazie per averci seguito grazie a Gianni Dareo in regia appuntamento a domani con mattino 6 alle 14 per il TG6 grazie e buon proseguimento di giornata a domani grazie a tutti Grazie a tutti.